Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Due gli argomenti in primo piano, da una parte la corsa al colle con i partiti che cercano il candidato ideale per ricoprire il ruolo di capo dello Stato, Presidente della Repubblica. Dall'altro la corsa della pandemia con le regioni che ora chiedono al Governo di scomputare i dati relativi agli asintomatici dal computo complessivo dei contagiati per evitare di arrivare subito in zona rossa e quindi bloccare le attività economiche. Mandiamo con ordine cominciando con il Corriere della Sera che titola Virus, la battaglia sui dati. Esperti divisi, l'Istituto Superiore di Sanità, gli asintomatici vanno testati. Si riunisce il Comitato Tecnico Scientifico, frenano i contagi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia l'obbligo di immunizzarsi e leggiamo allora il richiamo. Nuovi contagi sulla diffusione giornaliera dei dati e battaglia tra gli esperti che si dividono. Oggi si riunisce il Comitato Tecnico Scientifico per discutere le possibilità di rivedere il bollettino. L'Istituto Superiore di Sanità è contrario. Gli asintomatici vanno testati per identificare le varianti, spiegano. Ieri record di vittime 316, ma i positivi lentamente tornano a diminuire. Insomma stiamo superando il punto di picco che era prevedibile intorno proprio alla metà del mese di gennaio per effetto dei contagi avvenuti tra Natale e Capodanno. Vaccinarsi diventerà normale, scrive Vespignani. E poi c'è l'intervista a Zaia, il governatore del Veneto, che scrive «Seguiamo l'Europa, si conta solo chi sta male». E poi dal silicone alle mazzette i trucchi per evitare la dose. E c'è anche la pagina economica con il duro scontro all'interno di Generali, si dimette Caltagirone. E poi c'è la crisi internazionale, equivoci pericolosi tra rivali. Ne scrive nel suo editoriale Angelo Panebianco. Leggiamo. «Nelle crisi internazionali i fraintendimenti delle intenzioni degli avversari o degli avversari hanno l'effetto di aggravarle, al punto che a volte, senza che nessuno dei protagonisti lo abbia inizialmente voluto, la situazione sfugge al loro controllo e precipita nel disastro. Una causa rilevante dei fraintendimenti, degli equivoci che rendono così difficoltosi i contratti fra le democrazie occidentali e le due grandi potenze autoritarie, Russia e Cina, dipende dal diverso significato che viene attribuito dalle une e dalle altre al territorio, al suo controllo statale diretto tramite un governo fantoccio e di coloro che vi abitano. Si considera il braccio di ferro attualmente in corso sull'Ucraina o quello probabile di domani su Taiwan, nonché la pace cartaginese, la brutale imposizione del dominio su popolazioni ostili, di cui l'ultima vittima è il Kazakistan, ma la lista è lunga, dalla Bielorussia all'Ossian Yang a Hong Kong. In tutti questi casi, fra occidentali e potenze autoritarie, sembra possibile solo un dialogo fra sordi, di uni che agitano il tema del diritto delle popolazioni coinvolte all'autodeterminazione, a decidere autonomamente come e da chi essere governati, e gli altri che rivendicano il proprio diritto a esercitare il controllo sui territori di loro proprietà o che hanno comunque per loro un valore strategico, qualunque cosa ne pensino coloro che vi risiedono. Poi nelle pagine interne l'ulteriore approfondimento. A centropagina vedete invece questa fotografia con la regina e i due figli, con Andrea che perde il titolo di altezza reale, la decisione della regina dopo le accuse nel processo Epstein. E ancora la vicenda del colle che agita le alleanze. Oggi nel centrodestra l'incontro della verità. Tampone agli elettori e addio ai catafalchi, queste sono le norme per proprio l'espressione formale del voto. Leggiamo il richiamo. L'incontro della verità è per oggi alle 14. I leader del centrodestra si vedranno per sciogliere le ultime riserve sul nome da votare per il colle. La parola d'ordine è compattezza. Silvio Berlusconi continua a coltivare il sogno di potercela fare e diventare Presidente della Repubblica anche dopo il chiarimento con Salvini. Le votazioni fra dieci giorni con regole per evitare i contagi. Niente catafalchi in legno con tenda di velluto ma speciali cabine anticontagio. Ogni elettore dovrà aver fatto il tampone e indossare una mascherina FFP2. E poi c'è il podcast del Corriere, un passo sicuro nella nebbia della Repubblica. E a proposito di Repubblica passiamo proprio al giornale La Repubblica che apre proprio con la corsa al colle. Destra divisa titola il giornale fondato da Eugenio Scalfari. Berlusconi riunisce Salvini e Meloni ma sulla sua candidatura aumenta lo scetticismo nella coalizione. Gianni Letta, un grande portavoce di Berlusconi, esce allo scoperto per il colle serve una pacificazione. Intanto Renzi scrive fossi in loro cambierei cavallo. Sulla vicenda Covid il governo accetta di modificare il conteggio dei ricoveri e allora leggiamo il richiamo. Silvio Berlusconi continua a puntare al Quirinale e schiere i suoi giornali e le sue televisioni nella corsa. La sua candidatura però non piace al centro-sinistra e divide il centro-destra. Persino Gianni Letta, vicinissimo all'ex premier, ha lanciato un appello invitando a guardare all'interesse del paese e non a quelli di parte. Oggi a Villa Grande, residenza romana di Berlusconi, è previsto una vertice del centro-destra. A Metropolis, il podcast ha colori sui canali Gedi, Matteo Renzi ha previsto l'elezione di un presidente o una presidente il 27 gennaio, dimostrandosi freddo su Berlusconi, aggiungendo non credo al Mattarella bis. Intanto c'è anche il reportage di Francesco Bey che parla di un presidente modello Sassoli. E a proposito di David Sassoli, quando la morte illumina la vita, scrive Giacomo Papi, per capire le persone bisogna immaginarle morte. A me capita di farlo con gli amici e le amiche quando muoiono, ma a volte anche da vivi. Ho bisogno di allontanarle per vedere davvero, per capire cosa avevano di speciale in sé o forse solo per me, in modo che possano essere raccontati. E poi Giovani Violenti, Roma, stupro di gruppo alla festa di Capodanno, una vicenda davvero inquietante. E poi L'ira della regina, Andrea non è più sua altezza. E poi alle pagine di Economia, il CDA di Generali, l'addio polemico di Caltagirone. Passiamo alla stampa, il quotidiano di Torino che invece titola Le regioni, troppe regole col Covid, bisogna convivere, ridurre la quarantena, eliminare il tampone ed escludere i positivi asintomatici. No di Speranza, del Ministro della Salute e dei virologi. Leggiamo Paolo Russo. La sintesi per le regioni la fa l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Continuando di questo passo tra positivi in quarantena e guariti che non riescono a farsi riattivare il Green Pass perché il sistema sta andando in tilt, metà febbraio il Paese collassa. Dobbiamo semplificare prima di tutto togliendo quarantene e tamponi per chi ha fatto la terza dose e le regioni invieranno un documento al governo per chiedere l'allentamento delle restrizioni. E c'è anche la scienza che dice che la battaglia si vince con i nuovi vaccini. Anthony Fauci, il superconsulente di Biden, presidente degli Stati Uniti, che scrive che poco più di due anni fa nella provincia di Wuhan in Cina è stato scoperto un nuovo coronavirus che provoca una grave polmonite. Poi nelle pagine interne spiega il senso del suo intervento. La scelta politica di aprire la scuola è invece l'intervento di Vladimiro Zagrebelsky. Invece l'apertura principale del giornale è affidata alla politica. Draghi ai partiti, io ci sono, tocca a voi. La mossa del Premier, che ai fedelissimi confida, se toccassi a me, lascerei mano libera al leader sul mio successore. Quirinale, il Partito Popolare Europeo si schiera con Berlusconi, ma Gianni Letta frena guardare al Paese, non a una parte. E perché ora serve lo spirito di Sassoli? Francesca Schianchi, nel suo commento, prova a identificare proprio il ruolo del Capo dello Stato con quello spirito impersonato, incarnato proprio dal Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, scomparso proprio qualche giorno fa. A centropagine invece vedete questa fotografia che è davvero drammatica. Basta plastica, da oggi vietate le confezioni in monouso. Scatta lo stop alla plastica monouso. Entra in vigore oggi il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea del 2019. Addio agli oggetti useggette e agli attrezzi da pesca, non biodegradabili e non compostabili. E c'è anche l'analisi sul tema economico. Così può esplodere il debito pubblico di Mario De Aglio. Non si può curare un malato che sta soffrendo solo imbottendolo di medicine che gli tolgono il dolore. Questo può andar bene e spesso è indispensabile per superare un momento di crisi acuta, ma successivamente è necessario cercare di eliminare le cause stesse del dolore, altrimenti il farmaco si trasforma in droga, la sua efficacia diminuisce e le dosi vanno aumentate mentre la malattia non guarisce, anzi spesso tende a peggiorare una similitudine con quello che sta avvenendo per l'economia non solo italiana ma di tutta Europa. E passiamo all'avvenire il giornale dei Vescovi Italiani della CEI che scrive «Hanno da vincere, 12 prove, una ogni mese per l'economia e per il Paese, oltre la sfida del Quirinale». Quadrio Curzo, ora svolta anche per l'Unione Europea con titoli europei in emissione continua. Leggiamo Roberto Petrini che cerca di chiarire il senso di questo intervento. I temi economico-sociali sembrano spinti in secondo piano dallo snodo del Quirinale, ma l'analisi di ciò che dovrà affrontare l'Italia conferma che il 2022 sarà un anno di rimente. Inflazione, tassi di interesse, debito crescita e nuova ondata di Covid, corsa contro il tempo per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contrasto di disuguaglianze, povertà, mercato del lavoro, famiglia e immigrazione. Sono queste tutte le battaglie che dovrà affrontare l'Italia, ma c'è anche, e questo è cosa di questi giorni, la corsa al colle con Letta, segnali positivi se Berlusconi lascia, ed è un'interpretazione importante fatta proprio dal giornale della CEI, che poi a centropagina mostra questa fotografia di Roma, quasi un auto lockdown, ma la curva in leggero calo, vedete una città vuota, stiamo parlando di Piazza Navorna a Roma, nelle città sempre più gente a casa, 140.000 i morti per l'epidemia. Leggiamo, la pandemia fiacca le città fino a mutarne il paesaggio, la rapida diffusione del virus attraverso la variante Omicron sta provocando disservizi, un preoccupante rallentamento delle attività economiche e un processo di desertificazione che ricorda il lockdown del marzo 2020. Intanto il virus continua a correre, ma a una velocità più contenuta, con 184.615 casi registrati a fronte dei quasi 1,2 milioni di tamponi, il tasso di positività scende al 15,6% e per il secondo giorno consecutivo le terapie intensive fanno segnare il segno meno. Con i 316 morti di ieri, superate le 140.000 vittime da inizio pandemia negli Stati Uniti, la Corte Suprema boccia intanto l'obbligo di vaccinazione per i lavoratori introdotto da Biden, ed è un tema che poi si riverserà anche in Italia, dove appunto il governo Draghi ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per chi ha più di 50 anni. Intanto c'è anche l'intervista a Flick sul tema di civiltà cattolica. Sì, ad una legge saggia sul suicidio assistito per frenare le derive eutanasiche. Ne scrive Angelo Piccariello. Chi si oppone ad una legge condivisa che limiti il suicidio assistito ai casi indicati nella sentenza della consulta del 2019 rischia di ottenere l'effetto contrario a quello desiderato, spianando la strada all'eutanasia attraverso il referendum. E poi vedete una sentenza storica, Ergastolo in Germania al torturatore siriano. E ancora il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, che si occupa ovviamente dei temi di economia. E vedete il titolo principale, moratorie, lo Stato rischia 10 miliardi di euro con una emergenza liquidità. Si riaccendono i riflettori sui finanziamenti e le imprese con garanzia dello Stato, la cui moratoria è scaduta il 31 dicembre, pressing per un nuovo allungamento, viste le difficoltà create dalla quarta ondata della pandemia. Da marzo, poi con la fine del pre-ammortamento, rischia di esplodere la rata dei prestiti Covid, da 2 a 14 mila euro a semestre per un prestito medio. Intanto, considerate le imprese che non riescono a riprendere i pagamenti, si profila anche un rischio per lo Stato di almeno 10 miliardi. Al 31 dicembre erano 36 miliardi i prestiti sospesi dalle imprese che non hanno ripreso a pagare con la garanzia pubblica, che parte dal 33%, ma può arrivare all'80%. In caso di esclusione dovrà pagare il Ministero dell'Economia e Finanza. E poi vedete, i BTP alzano i tassi in asta, Standards & Poor's, l'Italia non deve sprecare la fiducia. E poi c'è il dato dell'Istat sul rilancio, l'industria italiana corre più veloce di quella europea, un dato importante. La locomotiva in Europa siamo noi. Con uno scatto oltre le attese di quasi due punti su base mensile del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2020, la produzione industriale di novembre in Italia supera nettamente le performance deludenti di Germania e Francia, allungando la distanza rispetto ai livelli pre-Covid. Prendendo infatti come riferimento l'indice a febbraio 2020, vigilia della pandemia, troviamo l'Italia già tre punti oltre quella soglia, mentre Parigi è ancora in rosso di cinque punti, Berlino addirittura sette. L'energia, rilanciata dalla necessità di riattivare ogni possibile fonte alla luce del boom dei prezzi, gioca certamente un ruolo tuttavia non determinante per definire le medie. E poi, vedete, c'è anche il riferimento al caro Bollette, il governo accelera sulle nuove misure per tagliare i costi. E poi c'è anche la vicenda della battaglia su generali, con Caltagirone che lascia il consiglio di amministrazione. E passiamo ai giornali di ambito regionale, cominciando con l'edicola del sud, il giornale di Puglia e Basilicata, che titola Pasta alle stelle. Entro la fine del mese il prezzo salirà del 60%. Sempre più su l'allarme di Mastromauro, Granoro, crolla la fiducia delle imprese. A gennaio il prezzo della semola è aumentato del 120%. Marina Mastromauro, alla guida dell'azienda di famiglia, la Granoro lancia l'allarme. Entro gennaio il prezzo di un pacco di pasta salirà del 60%. L'inflazione che galoppa affossa la fiducia delle imprese e frena gli investimenti, ma soprattutto svuota le tasche delle famiglie che si trovano a pagare conti insostenibili. E poi vedete Gero Grassi, l'ex deputato, che nel suo intervento scrive e alla fine fu rialetto napolitano e parla della vicenda della corsa al colle, ricordando appunto la vicenda delle elezioni di Napolitano, bis, che venne fuori in una situazione molto simile a quella che oggi vede i partiti impegnati nel trovare il candidato giusto. All'epoca non venne trovato e allora si ripropose Napolitano, ma questa volta la differenza è nella netta contrarietà di Mattarella a proseguire il suo mandato. E ancora due eletti in meno, maggioranza Emiliano perde pezzi con la sentenza del Consiglio di Stato che ieri riguardava la Puglia, la regione Puglia, con la determinazione dell'assegnazione dei seggi dopo le elezioni ormai di un anno e mezzo fa. E passiamo al Messaggero, il giornale della Capitale, che titola La mossa delle regioni per evitare la zona rossa. I governatori, non calcolate gli asintomatici, la bocciatura dell'Istituto Superiore di Sanità, intanto l'EMA, l'Agenzia sulla Vigilanza dei Farmaci, frena sulla quarta dose. Il caso Zitromax, l'antibiotico, è diventato ormai introbabile. Poi le questioni della politica e vedete a centropagina una fotografia che sta facendo davvero il giro del mondo. Con il papà in spalla verso il vaccino, 12 ore di marcia in Amazzonia per sconfiggere il Covid, per consentire al proprio genitore di ricevere una dose di vaccino, ha attraversato quasi mezza Amazzonia. E poi droghe e stupro, il capodanno shock dei bravi ragazzi. Roma, abusata a 16 anni nel festino in villa, due fermi sotto indagine anche alcuni adolescenti. E un altro sexy gate è quello che colpisce l'Inghilterra con la regina scossa dalla vicenda dello scandalo sessuale che travolge Andrea, il suo figlio, il suo secondo genito, via gradi e onori. E passiamo al mattino, giornale di Napoli e della Campania, che titola il taglio dell'IRPF nel 2022 dimezzato dalle tasse locali. Campania, il peso delle nuove aliquote regionali e del patto salvadebito a Napoli. I redditi più colpiti tra i 15 e i 50 mila euro. Oltre i 60 mila euro si versa addirittura di più che nel 2021. Una vicenda che merita un ulteriore approfondimento. Allora leggiamo Marco Esposito che scrive IRPF, le addizionali locali dimezzano gli sconti del 2022 per il peso sui contribuenti del debito di Napoli e della manovra regionale. Risparmi ridotti nella fascia 15-50 mila euro e oltre i 60 mila si verserà di più nel 2021. Nel 2023 ne arriva un'altra riforma che penalizzerà il ceto medio. Sparirà il meccanismo delle addizionali e scatterà una sorta di sovraimposta che tra comune e regione sarà poco inferiore al 12% dell'IRPF nazionale dovuta. Insomma da una parte lo Stato cerca di mettere un freno alle imposte limitando il peso su famiglie e imprese. Dall'altra poi le regioni che sono un centro di spesa non condizionato proprio dal governo e questo è uno dei grandi problemi dell'architettura dello Stato italiano rischia di togliere la buona parte degli effetti a favore di famiglie e imprese proprio prelevando ulteriormente soldi attraverso l'imposizione fiscale. E poi c'è la pagina internazionale con se il virus oscura la guerra alle porte. Il caso Ucraina. Le regioni per tornare alla vicenda Covid. Bisogna cambiare i conteggi. Mossa per evitare di finire in rosso. Ne abbiamo parlato. Così come abbiamo parlato del Quirinale. Berlusconi isolati. Salvini va a trattare con il Partito Democratico. Il Cavaliere. I fedelissimi frenano. Gianni Letta afferma. Non bisogna guardare agli interessi di parte. E poi il caso della Concordia. Ricordo il primo SOS. Quella sciagura mi ha segnato la vicenda dell'affondamento della nave da crociera. E passiamo e chiudiamo con l'altra voce dell'Italia. Il Quotidiano del Sud. Diretto da Roberto Napoletano che nel suo editoriale di prima pagina scrive non sprechiamo la credibilità di Draghi. Tutti i paesi si stanno svegliando dal torpore del sonnifero monetario e chi ci presta i soldi sia a livello di mercato sia a livello europeo aspetta l'Italia al barco. Non si può espandere all'infinito il bilancio pubblico né stampare moneta all'infinito. Bisognerà crescere migliorando il livello delle infrastrutture, facendo le riforme. E tutto questo richiede credibilità, richiede capitali, richiede accordi internazionali. Siamo dentro un orizzonte molto più ampio con una leadership nazionale che non solo ci mette a riparo da un eccesso di turbolenze dello spread, ma che può definire una piattaforma comune di finanza pubblica con la Francia che colloca i debiti da Covid in un'agenzia europea e rivede le fondamenta del patto di stabilità e di crescita europeo senza che i tedeschi facciano un solo attacco. Ricordiamocelo. E poi a proposito del come affrontare il post-Covid, si legge questo articolo di Fabrizio Galimberti il riscatto del mezzogiorno deve partire dalla scuola, serve un cantiere civico educativo. Un dato molto importante. Così come è importante il titolo di LIA Romagno, industria oltre i livelli pre-Covid, la Banca Centrale Europea, Economia UE dell'Europa, in forte recupero. Le previsioni di crescita italiana fino al 6,5%. L'industria italiana torna a crescere e supera di tre punti percentuali i livelli precedenti l'esplosione della pandemia da Covid-19 rispetto a ottobre con i numeri in calo, meno 0,6%. A novembre la produzione industriale ha segnato un più 1,9% rispetto al 2020. L'aumento è stato del 6,3%. Un dato importante ma che tiene conto ovviamente dell'inserimento di tutti i flussi economici provenienti dalla PNRR che ora va attuato, non soltanto progettato. E c'è l'ultimo intervento, quello di Ercole in calza, che scrive ZES, le zone economiche speciali, portualità e ferrovie, non si può vivere di soli annunci, occorre capacità di fare più che di dire. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati nel corso di questo appuntamento con la Rassegna Stampa che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.